Dopo la prima sentenza di Cassazione era arrivato ricorso straordinario per errori di fatto portato avanti dai legali del manager Enrico Gilberti condannato per disastro ambientale colposo relativamente all'inquinamento Tamoil. La Cassazione si è espressa in merito respingendo il ricorso, ora con le motivazioni che sono state depositate nei giorni scorsi si chiude con una pietra tombale e il giudizio penale e si apre una seconda fase, quella civile. Quindi possono partire le azioni risarcitorie in sede civile. Mi spiego meglio, in prima battuta le azioni per quantificare il danno delle parti che erano costituite parti civili nel processo penale quindi il comune di Cremona, alcuni soci delle canottieri, Legambiente, Lombardia e il dopolavoro ferroviario. E poi possono partire anche le azioni risarcitorie nuove, cioè quelle in particolare di tutti i soci che non si erano costituiti parte civile. Ad aprirsi anche la partita delle bonifiche, mentre per quella interna all'area i giochi sono bloccati dalla presenza dei depositi nel sito, per quanto riguarda le aree esterne toccherà il comune di Cremona intervenire alla luce dell'ultima e definitiva sentenza di Cassazione. Per quello che riguarda le aree interne, la bonifica dovrà essere fatta quando il sito non sarà più operativo. Rimane la parte relativa ai depositi e quindi questo ritarda la bonifica. Per quello che riguarda invece le aree esterne c'è stato un procedimento amministrativo che allo Stato prevede un ripristino e non una bonifica. Si tratterà di capire se a seguito della sentenza del giudice penale effettivamente è sufficiente un ripristino o se invece è indispensabile fare una bonifica. Il procedimento amministrativo di questo tipo è in capo al comune.